alla vigilia dell'inizio di watch wonders due novità di altissimo l'orloggeria sigla buongiorno a tutti e ben ritrovati su questo video temo che sia iniziata la maratona dei video perché siamo alla domenica 26 e domani è la settimana di watch wonders e infatti ci sono già tutti i segni di questo tant'è che sono uscite due novità col botto cioè due pezzi di altissimo l'orloggeria uno è il de betune chronograph di b8 ma prima ancora c'è la prima realizzazione della nuova azienda oloroggera bivera chiamata carillon tourbillon voi sapete jean claude bivera scusate è uno dei manager più importanti della storia dell'orloggeria ha una carriera lunga di 50 anni e soprattutto ebbe un ruolo fondamentale al momento della rinascita dell'orloggeria meccanica quando prima lavorò in eau de mar piguet poi a quel punto rilevò insieme a jacques a jacques non jacques jacques piguet erede di frederick piguet rilevò il marchio blampenna e lo rifece da zero e il blampenna ebbero un ruolo fondamentale nel rilancio dell'alto l'orloggeria nella breve stagione di bivera e di piguet che dura purtroppo poco e poi lui andò in omega quindi già nel gruppo swatch poi mi sembra di ricordare hublò hublò anzi in omega entrò perché vendette a swatch group blampenna e anche frederick piguet perché già in realtà poi tutto partì da jacques piguet che si ritirò comunque è una storia che racconto e c'è un video dedicato a blampenna jean claude bivera e dopodiché da omega mi sembra ricordare passò alla direzione di hublò dove fece l'esploit del big bang ricordato soprattutto per quello poi dopo blu tagoyer zenith tagoyer ancora responsabile orologi del gruppo lvmh fino a che per ragioni di salute si ritirò nel 2018 ma in realtà poi ha deciso quasi subito di dar vita a una propria azienda di altissima orologeria lui ha detto chiaramente che intende fare tra i migliori orologi svizzeri mai fatti e devo dire lui aveva preannunciato che questa primavera si avrebbero presentato il primo orologio l'azienda si chiama biver c'è lui e il figlio poi c'è un orologiaio montato anzi due orologiai montatori un esperto di decorazioni e insomma è un piccolo atelier e per il momento debutta questa serie di 18 pezzi chiamata carillon turbion si carillon minuti carillon turbion si scusate un momento così non sono nelle condizioni migliori l'avrete forse capito andiamo a vedere di cosa si tratta ecco vediamo jean claude bivera che tra l'altro non è in condizioni di salute perfette e abbiamo il figlio pier 22 anni questa è l'atelier di givran dove hanno stabilito l'azienda fra losanne ginevra e questo è l'orologio finalmente l'orologio ha una cassa di 42 mm per 13 virgola 70 di spessore allora diciamo subito che abbiamo dei quadranti che sono in pietra o sodalite a cupola oppure sempre a cupola dell'ossidiana argento che sono messe su una base di oro bianco da quello che ho capito poi c'è questa versione che sembra non avere il quadrante le casse sono in oro rosa oppure in titanio grado 5 con cassa questa in titanio e oro rosa addirittura e ora veniamo al calibro dunque che cos'è questo calibro questo calibro tutto è stato sviluppato da jean claude biver dal figlio e da quell'azienda specializzata in alto orologeria che è le cercle des orologi che lavora da tanti anni dopodiché poi ci sono stati affinamenti con l'aiuto anche di dubois depra e poi abbiamo un orologio costruttore a givran e due montatori più un esperto di decorazioni e finiture come vedete questo è il lato b del calibro si vede subito che la ripetizione minuti a tre martelletti perché tre sono i timbri e per questo si chiama cattedrale poi abbiamo la ruota di centro che come vedete ha riprende quell'idea delle ripetizioni minuti tour bion anzi dei tour bion di patek philippe con le anse sinuose molto bella molto bella qui messa come ruota di centro nei patek non è la ruota di centro solitamente abbiamo poi a destra noi vediamo il regolatore direi centrifugo quindi silenzioso della ripetizione minuti e poi abbiamo sul lato a abbiamo un tour bion non volante quindi con ponte superiore e con un ponte che ricorda le sfere le sfere come gli indici sono di oro bianco o di oro rosso 5 n vedete anche come questa versione open deal faccia vedere le camme e i rastrelli della ripetizione minuti quindi è piuttosto interessante sarà bello o sarebbe bello vederla in funzione 18 pezzi da quello che ho capito ma non ho capito se hanno già deciso a priori in quali versioni di cassa fare e quadrante fare oppure se è a scelta del cliente 18 pezzi 500 mila 20 mila euro quindi una cifra molto importante cosa penso di questo orologio ma mi sembra da una parte troppo un po troppo classico per i miei gusti loro io so che lo volevano fare proprio così quindi un po troppo molto classico quadrante bello in pietra lato b allora si vedono le finiture belle perché si vedono gli anglais con gli angoli rientranti tra l'altro i ponti sono in oro bianco o in oro rosa rosso e sono lucidati sono in alcune parti sono lucidati a specchio come anche le parti in acciaio e poi c'è una superficie grene e molto moderna che si adatta ai tempi però il disegno dei ponti devo essere sincero non mi fa impazzire nel modo più assoluta e poi ho capito che dovevano mettere i tre martelletti e non è mai facile mettere tre martelletti quindi invece di metterne due assieme praticamente hanno messo un terzo martelletto vicino al micro rotore cioè nell'ambito dell'apertura del micro rotore una soluzione che mi sembra molto molto strana che non ho mai visto prima poi appunto c'è questo micro rotore problemi energetici non ce ne sono perché la ripetizione minuti a una molla di ricarta che si carica con la slitta quindi praticamente il micro rotore in platino cosa fa carica e il movimento col tourbion di base per cui non è niente di di base di base con tourbion e ovviamente di base anche con la ripetizione minuti carioni per il momento vi ho detto tutto ripeto non lo trovo da proprio così clamorosamente affascinante bello non so mi aspettavo forse qualcosa di più le finiture dovrebbero essere proprio nei dettagli al top assoluto e questo giustificherebbe anche il prezzo stiamo a vedere perché poi deve uscire un cronografo strabiliante da quello che ho capito e poi modelli anche solo tempo vedremo vedremo cercheremo di capire meglio questa azienda di vera cosa potrà dare all'orologeria di oggi e ora passiamo all'altra novità il de bethune di b8 voi sapete che de bethune ha una tradizione nei cronografi e in particolare denis flageolet che è il geniale orologiario dietro de bethune che ora l'azionista di riferimento non avendo più come socio davide zanetta ebbene flageolet appunto i suoi cronografi sono il db1 che era un classico due contatori poi abbiamo avuto il db8 poi abbiamo avuto il maxi crono il maxi crono era estremamente innovativo con i tre innesti senza sub dial chiedo scusa con tre innesti diversi per le tre indicazioni di secondi minuti e e quindi noi non solo separati erano diversi cioè c'era tutto c'era l'innesto verticale l'innesto orizzontale poi c'era anche il pignone oscillante se non ricordo male e quindi un cronografo molto complesso all'inizio il maxi crono all'inizio con tutte le indicazioni centrali all'inizio presentato solo con turbion a prezzo folle poi fu fatta finalmente una versione senza turbion a prezzo relativamente più modesto ora abbiamo invece un cambio completo con questo nuovo db8 molto interessante andiamo a vedere le ragioni per cui lo è eccolo qui il db8 42,4 mm di diametro per 9,2 di spessore pensate un po per un cronografo così complesso l'apparenza è quella di un solo tempo normale ma in realtà noi abbiamo la sfera di secondi che la sfera di secondi cronografici e il sub dial a 6 non è non sono i piccoli secondi ma sono i minuti cronografici 60 minuti saltanti esattamente tra l'altro abbiamo due tipi di ghiosce sfera azzurata alla fiamma abbiamo una cassa in titanio con le anse ogiva come tipico di debetune lucidate perché anche debetune come citizen fa il titanio lucidato e vedete il calibro già che si chiama db3000 che sembra molto simile al calibro del maxi crono con questi ponti con queste aperture e quindi bisogna vedere se ne riprende la raffinatezza tecnica o meno purtroppo su questo non ho trovato notizie so soltanto che il bilanciere è in titanio con viti in oro bianco so che la spirale è una spirale debetune quindi fatta da loro e so pure che la ruota di scappamento è rimasta in silicio e appunto vedete queste ansie ogiva che ne permettono una facile indossabilità in attesa di saperne di più ci sono dei dettagli di questo orologio bellissimo tra l'altro ci sono dei dettagli è un cronografo monopulsante si aziona dalla corona ovviamente ci sono dei dettagli che mi fanno pensare che non abbia il calibro del maxi crono primo appunto il sub dial dei minuti cronografici e non tutti i contatori centrali e poi per il prezzo perché siamo 85 mila franchi svizzeri che non sono pochi ma non sono nemmeno quelli del maxi crono quindi probabilmente hanno fatto un crono più in linea con la tradizione veramente molto ma molto bello sottile leggero e con queste ansie ogiva e molto corte e credo che sia un crono che stia benissimo al polso costano un poco vedremo se riusciremo a saperne di più o quando riusciremo a saperne di più vedrò di dirvelo soprattutto se ha meccanica o meno del maxi crono io credo di no in linea di massi anche se il lato beach assomiglia molto bene con questo vi ringrazio vi saluto e al prossimo video che credo sarà molto breve ciao ciao